Io adesso sto combattendo una battaglia per salvare la fabbrica e i vostri posti di lavoro. Pretende che i tedeschi facciano quello che vuole lui, ma io invece penso che sia usura legalità. La sua azienda è morta. Io ho preso questa fabbrica da mio padre. Per 40 anni abbiamo rispettato l'impegno, abbiamo sempre pagato tutto, è tutto. Guardami, ho detto. Ti guardo. Forse ci riesco. Forse ci riesco.